Mauro è uno che ha deciso di fare quel tipo di vita che non è sicuramente semplice, anzi, molto complicato. Lì sta bene, ora che si parla del fatto che dovrà andare via, per lui sarà molto complicato. Perché comunque c'è 30 anni in un'isola, stare da solo, lui fa parte dell'isola, l'isola fa parte di lui. Insomma, non è semplice. Ebbè, il mare è la mia vita, oltre che il mio lavoro è la mia vita. Ne ho tanta paura, il mare ti può uccidere in un attimo, ma il mare che abbiamo qua è qualcosa di unico. Qua c'è sempre vento, poi le isole sono vicine, creano diverse correnti. È un mare che quando è formato è un mare per esperti, insomma. Dopo un'ora tra le onde, finalmente raggiungiamo l'isola. Paolo mi lascia sull'isola ed io scopro che ormai la spiaggia rosa non è più rosa. Mi ricordo che appena arrivato era molto, molto rosa. Non l'hanno portato via tonnellata. Questa sabbia non è sabbia normale, è carbonato di calcio, la fratturazione delle conchiglie di questo microrganismo rose. E quando muoiono le correnti riportano sopra questa spiaggia qua. Io penso che l'isola sia un po' magica, che ti dà qualche cosa sempre. A me, ad esempio, mi è andato sempre tutto abbastanza bene da quando sono qua. Io non mi sono mai ammalato da 30 anni. Se sei in empatia con l'universo, tutte le cose ti vanno bene. Io facevo l'insegnante di educazione fisica. Sono sempre stato un contestatore, no? Prima in politica. Io ho disobbedito molto alle leggi dello Stato, ho disobbedito molto ai genitori, ho disobbedito quasi sempre, ho disobbedito anche qua. Adesso che ho conosciuto una donna, questa donna, tre anni fa, evidentemente mi manca lei. Perché lei lavora, insegna a scuola e perciò ci vediamo. Ci siamo visti finora solo un po' d'estate, un 15 giorni d'estate. E' un po' poco, perciò stiamo un po' lasciando perdere, perché non è possibile continuare così. Ma non mi manca niente. Diva che cosa mi deve mancare? Io se non ho qualcosa, c'era Diogene, quando andava al mercato, ridevo come un matto. Quello non mi serve, quello non mi serve, non gli serviva niente. Meno cose ti servono, più sei felice, stai bene. Il vento pulisce, prima di tutto pulisce, pulisce anche la mente. Qua non è che guardi solo con gli occhi, qua devi ascoltare col naso i profumi, devi ascoltare con le orecchie il sibilo del vento, la risacca del mare. E poi c'è qualche cosa d'altro, che tu quando vedi queste cose senti che ti danno qualche cosa, che non lo so di preciso che cos'è, non so se è magia o meno. Mauro, il ribelle che lasciò il mondo per vivere da solo in paradiso, ora si è trasformato in un Eremita 2.0. Com'è cambiato vivere da Eremita, adesso ci sono i social? Perché appunto non potevo, quello che dico d'estate qua alla gente che viene, non potevo urlarlo in America, non mi avrebbero sentito, neanche in Australia, neanche in Brasile. Allora ho dovuto farmi dare una mano dalla tecnologia per comunicare in tutto il mondo il mio pensiero. Su Facebook ad esempio ho 5.000 amici, su Instagram sono 18.500 e nelle mie foto continuo a dire guardate che le mie foto non sono la rappresentazione della realtà. Io aggiungo nelle mie foto i miei stati d'animo, perciò andate in più in profondità, non in superficie, come qua. Se invece di guardare la superficie, perciò hanno portato via la sabbia, avessero visto la bellezza di questo posto, l'avrebbero rispettata, amata e rispettata. Invece noi non amiamo la natura, questo mondo non ama la natura, l'adopera. Volevo io andare via da un posto che non mi va, con della gente che non mi va, con dei principi che non mi vanno e andarmi a creare un'altra società dall'altra parte. Un'utopia, no? Però era questo il mio desiderio, a 50 anni, ero ancora un bambino. Adesso sono cresciuto un po', però odio ancora una società di questo tipo. Però cosa fai? E perché voglio continuare a stare qua, anche se vorrebbero mandarmi via? Per poter continuare in un modo anche più, diciamo, legale, a fare quello che ho fatto finora. Cioè di far capire la differenza che c'è tra vedere in superficie e andare in profondità della bellezza. Perché se io vado via di qua, e lo so benissimo, io non sono più nessuno. Tu quando sei venuto qua volevi essere nessuno? Volevi stare fuori da tutto? Sì, e poi mi sono reso conto che era assurdo, perché non è possibile continuare a vivere in mezzo della gente, con della gente, e vedi che stanno distruggendo. I gigli bianchi che vengono sulla spiaggia lì dove siamo stati noi adesso, no? Ma ne facevano dei mazzetti, li portavano via. Poi dopo dieci metri, siccome appassiscono subito, li buttavano via. Io ho sempre avuto questa mania di insegnare, di dire, di dire la mia opinione, si dovrebbe fare così. E allora, ancora adesso, cerco di continuare a fare. Per completare l'opera ha bisogno di un'antenna wifi e mi offro volentieri di aiutarlo. No, aspetta, aspetta, mi fa stringere. Io devo andare giù per metterla in direzione di quella lassù, vedi? Sì, io ti dico un po' più a destra, un po' più a sinistra. Non c'è niente davanti. L'operazione è tutt'altro che facile. E dopo un po', quando Paolo torna a prendermi, vengo esautorato dal mio compito. Andiamo un coltello! Ne approfitto così per esplorare l'interno dell'isola e capire se davvero, come disse Garibaldi, Robinson Crusoe è stato l'uomo più felice sulla terra. Mentre prendo atto che non è da tutti vivere da soli su un'isola, da lontano vedo che Paolo sembra aver trovato la soluzione. Finalmente Mauro, l'eremita del terzo millennio, può tornare a difendere la bellezza. Tu serai sempre il mio amore, e io credo a ti come un bonheur super... ... ...